La Game Social ha rilasciato il 14 settembre 2023 le nuove FAQ per quanto riguarda i Night Hunt per Age of Sima Dominion. Questa è stata aggiunta a solo una singola nuova FAQ, che è la stessa che abbiamo potuto vedere aggiunta nel Battlescore Undor che è stato aggiornato. Il fatto che sia presente qui è molto importante perché vuol dire che anche con l'ora venga a esaurirsi il tempo per il Battlescore Undor, questa rimane e quindi è ancora valida. Quindi è molto importante ricordare la sua presenza. Ecco che questa è qualcosa che riguarda le grandi strategie, in particolare la Fright of Light, dove viene detto che quando la battaglia termina si completa questa grande strategia se uno o più obiettivi sono contestati da unità amiche di Night Hunt. Ecco che non hanno però unità nemiche entro se poi si dà alcune di quelle unità Night Hunt che vanno contestando l'obiettivo. Quindi questo implica una cosa essenziale, ovvero che qualora voi contestate un obiettivo dovete controllarlo e dovete fare in modo che non ci siano altre unità nemiche. Se ci sono vi conviene mollarlo, lasciarlo lì, proprio dimenticarvi, perdonare, dimenticarvi di una cosa e allontanarvi. Perché sì, basta controllare un obiettivo e che non ci siano unità intorno, ma se uno degli altri succede che c'è anche un'unità nemica che può contestarlo, perdete questa grande strategia. Quindi dovete fare attenzione perché se volete ottenere i punti per questa grande strategia dovete eventualmente sacrificare degli obiettivi o fare in modo che comunque quelli che controllate non abbiano nemici attorno. Quindi fate attenzione a questi dettagli perché sono importanti. Quindi non ci sono altre cose, vi ricordo che questo è un video che porta soltanto le modifiche, quindi gli aggiornamenti. Se siete interessati a vedere le FAQ precedenti, vi trovo da vedere in descrizione c'è il video proprio che parla di quelle che sono le FAQ precedenti, quindi potete usare quello come riferimento in modo che vi porta soltanto quello che è stato proprio l'aggiornamento, quindi il cambiamento in totale. Quindi eventualmente fatemi sapere. Ad ogni modo! Da Dynamode è tutto, vi invito a iscrivervi al canale, a suonare la campanella per ricevere notifiche per quanto riguarda nuovi video, a commentare qui sotto per quanto riguarda questo video o se volete suggerirmi per quanto riguarda nuovi video a cui potreste essere interessati. Spero di rivedervi presto, alla prossima! Grazie a tutti!